per la prima gara qui a Monza dobbiamo condividere una cosa nuova quest'anno condividiamo il palco con l'A7 la televisione italiana ovviamente in diretta dallo pub show quindi fate più rumore possibile così vi sentono anche in televisione però adesso presentiamo i piloti abbiamo visto delle gare fantastiche ancora il terzo posto qui a Monza per la Virgo Italia avendo un motore germane omosportivo il pilota Leon Arzab da Viglieterra un applauso per me dopo il secondo posto abbiamo visto tutti come è andato la gara Max Piaggi Aprilia l'Italia è il vincitore di gara 1 la prima volta che vince nel mondiale Superbike la squadra Yamaha World Superbike qui alla sede non lontano è Eugene Larrity che è un ottimo risultato però forse ovunque si è riuscito che è il primo 3rd place è un'excellentes adon ma magari è stato un pochino che le pergine per il Yamaha e l'Aprilio l'Italia l'Italia è un po' è un po' 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 L'Eugine è un po' un po' un po' Sì, in effetti facciamo un po' di modifiche per la gara 2 perché mi sento in grado di vincere contro questi due. Purtroppo non è andato così in questa prima gara perché all'inizio ho avuto un punto mortale contro Marco Malandri e poi ho fatto un paio di errori anche se io sono dato lungo della variante. Però tutto sommato sono contento del terzo posto. E da un paio di gare che la Bungu sta migliorando molto ma sta facendo molti progressi. Nel ultimo paio di raci abbiamo visto che la Bungu ha avuto un miglior progetto. Ma come va il sviluppo? Sì, in effetti da Assen poi abbiamo fatto lottevoli progressi e io mi sento adesso in questo momento in grado di combattere per la victoria. Poi vediamo in gara 2 e nelle gare successive. Un applauso per questo gol. Facciamo il 3-max che ovviamente 12 mesi fa è un ottimo vittorio. Forse ti senti in grado di fare la stessa cosa ovviamente in gara 1 non è andato così invece. Comunque è stata una buona gara. Perci un po' di terreno è stato un errore al situatore. Comunque la Bungu ha avuto un palco buonissimo e un po' di errori. Era difficile cercare di attaccare. In cui mi sono stato lato con Leon e altri. Ma io ho visto che alla fine non c'era di liberarmi ma era proprio un'altra. Ma come si vede non c'era così da eliminarmi. Era veramente veloce. Per una seconda adesso spero di caricare le spalle di me. Perché sarà una bella caratterizzata. E' un'altra cosa che aveva fatto. E' un grande bravo! La prima cosa è stata una battuta, ho fatto un due situations. E' un pezzo con il corso che invece è un po' della base. E' un po' di cui è molto difficile. Ho provato un'altra cosa che la sombre è stata un pezzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.